L'iniziativa si chiama Sempre Aperti a Donare e potrà contare sull'appoggio di un colosso della ristorazione. A Pavia e a San Martino Sicomario, McDonald's e Fondazione Ronald McDonald doneranno insieme a Banco Alimentare Lombardia 50 pasti caldi a settimana fino a fine marzo. I ristoranti del Pavese saranno direttamente coinvolti nel progetto. I team di lavoro si occuperanno della preparazione dei pasti che verranno poi ritirati e distribuiti dai volontari di Banco Alimentare Lombardia alla Caritas Parrocchiale Sacra Famiglia e alla Casa del Giovane. L'iniziativa si legge nel comunicato diffuso dalla multinazionale americana del fast food. È partita nel mese di dicembre e vuole portare conforto a chi sta vivendo un momento difficile. Il cibo donato andrà infatti a persone e famiglie che hanno problemi economici, in aumento anche nel Pavese, a causa della crisi economica scatenata dall'emergenza coronavirus. A livello nazionale il progetto prevede la donazione di 100.000 pasti caldi che verranno distribuiti entro la fine di marzo alle strutture di accoglienza di diverse città italiane. Quest'iniziativa conclude il comunicato. Conferma e consolida l'impegno che lega McDonald's e Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald all'Italia e alle comunità locali, con l'obiettivo di contribuire ad alimentare il circolo virtuoso generato dalle associazioni benefiche con cui collabora, specie nel difficile momento che stiamo attraversando.